Ben trovati cari amici di Globus Television da Antonella Guglielmino. Ecco le nostre notizie. Iniziamo subito con la prima. Il 21 febbraio alle ore 10.30 presso l'Aula Magna dell'Istituto di istruzione superiore Antonello. Si è svolto l'incontro sulle orme di Antonello tra gli studenti dell'Istituto e Silvana Laspina, autrice del libro L'uomo che veniva da Messina, dedicato al grande pittore Antonello da Messina. L'incontro è stato coordinato da Maria Muscherà, dirigente scolastico dell'Istituto e curato nella parte grafica dalla professoressa Flavia Tortorella. L'Istituto Antonello a Messina appunto fra i vari indirizzi ha altresì un indirizzo enogastronomico e anche per questo l'incontro è stato sapientemente corredato oltre alle prelibatezze usate alla fine dell'evento letterario anche da un percorso gastronomico in cui gli studenti ci hanno raccontato come alcuni nostri dolci tipici siciliani come ad esempio la cassata, i cannoli, la frutta martorana e il torrone ancora oggi diffusi nel nostro territorio fossero presenti nella nostra isola già nel 400. Cambiamo argomento, conto alla rovescia in vista della doppia manifestazione che sabato 11 e domenica 12 marzo vedrà protagonista a Messina Salvatore Brizzi, scrittore conferenziere impegnato nella divulgazione di antichi insegnamenti. Brizzi per la prima volta in Sicilia ospite dell'associazione Anturium Rosa, sabato 11 marzo alle ore 18 al teatro Annibale Maria di Francia. parlerà sul tema il significato spirituale della magia introdotto da Mirella Restuccia, presidente dell'associazione Anturium Rosa. Domenica 12 marzo dalle 9 alle 18 al Royal Palace Hotel terrà invece un seminario sul risveglio della coscienza, i principi del lavoro su di sé e su come applicarli. Parliamo di cultura, parliamo di teatro affollata conferenza stampa alla Mondadori di via San Giuliano a Catania per la presentazione dello spettacolo Fiori di Zolfo. Novità assoluta dall'autrice catanese Melania Allacolla, presenti anche la regista Francesca Ferro e alcuni attori Ileana Arrigano, Aldo Toscano, Francesco Maria Tardi, Alice Ferlito e Loredana Marino. Un'occasione per riparlare delle condizioni disumane dei minatori di Zolfo siciliani perché questo è il tema del lavoro teatrale e non sono mancate le testimonianze importanti tra il pubblico. Il signor Calogero per esempio figlia e nipote di Zolfatari che ha conosciuto l'inferno dantesco delle miniere come quelle di Floristella. L'autrice si è detta soddisfatta del suo testo che affonda le radici nel verismo verdiano ma da cui si distacca per il senso di speranza e per il ruolo fondamentale della memoria. Lo spettacolo debutterà al teatro ABC di Catania l'11 marzo alle ore 17.30 e alle ore 21. For best picture Come on! La La Land I'm sorry, no, there's a mistake. Moonlight, you guys won best picture Parliamo di cinema, di Oscar. Agli Oscar 2017, serata con storica gaff, sei premi a La La Land ma è Moonlight il miglior film dopo lo scambio col film di Damien Cherzil. Ma non è finita qui, un altro errore sta provocando un ulteriore mal di pancia agli organizzatori dell'89esima edizione degli Oscar. Ed è questa. Nel segmento dedicato alla memoria degli artisti scomparsi la foto di una persona viva e vegeta è apparsa sotto il nome della costumista Janet Patterson. Jen Chappan, produttrice cinematografica australiana, ora di Silice devastata per aver scoperto la sua immagine sotto il nome della collega scomparsa nell'ottobre del 2015. Dunque vince Moonlight, dice uno di loro, agitate sconvolto, non è uno scherzo, ha proprio vinto Moonlight, ma Jimmy Kimmel, il presentatore, conferma la notizia mostrando la busta. Ha vinto proprio Moonlight e Warren Bitti, il quale Jimmy Kimmel strappa la busta con vehemence lasciando lo stesso Bitti attonito, cerca di spiegare. Nella busta c'era scritto Emma Stone per La La Land. Cambiamo argomento. L'associazione culturale Gamma Zita è lieta di segnalare l'apertura delle iscrizioni alla quarta edizione del laboratorio di commedia dell'arte tenuto dall'attrice e regista Marzia Ciulla. Tra i workshop e le attività laboratoriali promosse per l'anno 2017, in seno alla programmazione formativa Ursino Basker, il laboratorio di commedia dell'arte porta avanti lo studio dell'antico genere teatrale popolare tutto italiano di fondamentale valore formativo per ogni percorso attoriale. La commedia dell'arte è nata all'incirca metà del XVI secolo in Italia ma si è diffusa in tutta Europa come commedia degli zanni, commedia all'improvviso e simili. Recitata da compagnie di attori professionisti e caratterizzata dalla interpretazione teatrale improvvisata sulla base di cannovacci e dalla presenza di personaggi maschere. Si è nutrita per secoli dei suoni del grande patrimonio linguistico popolare italiano ed oggi costituisce l'anello di congiunzione tra il teatro rituale pagano e il teatro dei professionisti, tanto da essere stata dichiarata patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per l'attenzione, ci vediamo alla prossima edizione. Grazie.